La porta di Cristi Arrabbiati Sulla destra il solito De Sciglio si fa vedere Arpione il pallone con l'interno piede Eccolo che parte all'interno dell'aria Il Charawi, il Charawi, il Charawi Fabregas rischioso Il pallone di Fabregas che lo perde Iniesta dentro, Messi Il tocco di Messi Leo Messi in Barcellona avanti E Manolson Dietro ancora per Montelivo Può calciare per Montelivo 2-1 per il Milan Che gol Il colpo Fabregas Iniesta E la palla va in rete Undicesimo minuto Aiesta Porta in vantaggio la Spagna Poi Boateng Prova il numero Boateng Si è liberato alle grande Un capolavoro di Boateng Per il 2-2 Che gol